Focus. Il Consiglio regionale ha recentemente approvato in aula la delibera che proroga di sei mesi i lavori della Commissione Speciale d'Inchiesta sulla Gestione Urbanistica. La proposta è stata presentata dai consiglieri Andrea Bucicchio, Italia De Valori, Presidente della Commissione, Daniele Cantore, Popolo della Libertà e Gianna Pentenero, Partito Democratico, Vice Presidenti. La proroga fino al 12 dicembre 2012 consentirà alla Commissione di acquisire ulteriori elementi informativi sulla gestione urbanistica regionale. Relativamente alla Commissione d'Inchiesta sull'urbanistica, Commissione d'Inchiesta regionale, l'Aula ha deciso di prorogarla di altri sei mesi, sì, perché diverse criticità sui comuni che erano oggetto d'inchiesta della prima fase sono emersi. Adesso dobbiamo anche valutare, traendo da queste criticità dei parametri di valutazione, su quali altri comuni nell'ambito della regione dobbiamo intervenire.